Ciao a tutti, sono José Luis, sono brasiliano e uno dei partecipanti dell'economia Francesco. Sono amministratore e per me è una gioia immensa poter rispondere sì a questa chiamata di Papa Francesco per fare insieme a tutto il mondo questo patto per una nuova economia che mette lo sviluppo economico alla pari della sostenibilità sociale e ambientale, anzi mette le persone e l'ambiente al primo posto. Io voglio essere un vero change maker, oltre di spendere donne, tempo e altre risorse per il bene comune, voglio essere un attore in questa costruzione di un'economia più giusta. L'economia Francesco è una grandissima opportunità che abbiamo per fare questo cambiamento e rendere possibile la felicità pubblica, partendo dalle piccole cose per arrivare alle più grandi strutture del sistema economico in difesa della vita. Grazie. 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 Grazie.